Dunque, Presidente, Laghezza come valuta questo primo scorcio di stagione sportiva? La nuova dirigenza insediata, sì, targata a Laghezza all'inizio di questa stagione pallavolistica, peraltro una nuova esperienza per voi? Ma guardi, la valuto molto positivamente, la squadra sta dando delle risposte importanti sul campo e poi c'è tanto entusiasmo, qui alle nostre spalle c'è una festa con tanti giovani, tanti ragazzi che stanno festeggiando questa squadra e questa società, io personalmente ci credo molto e penso che questo sia il primo passo per andare poi a un futuro che possa prevedere anche la salita alla Serie Superiore e quindi traguardi da raggiungere, molto importanti direi. La vista a questa partita, tanto per cambiare avete vinto, il 2018 non poteva che finire così, però insomma già che ci siamo, commentiamola, che ne è sembrata questa squadra? Mi sembra una squadra quadrata, forte, con elementi di livello, non è stata una partita semplice perché la squadra avversaria era formata di giovani di grande qualità, però noi siamo veramente di una carattura, mi permette di dire forse anche di una categoria superiore, con la dovuta scaramanzia ovviamente, però io personalmente ci credo e sono molto soddisfatto di questi ragazzi.